In questo momento ho comprato degli alimenti per il mio cane sfusi e poi quello che mi serve settimanalmente. E perché ha scelto un prodotto sfuso? Perché c'è risparmio, costa meno, c'è meno ingombro anche come materiale poi per buttare via. Il cane gradisce? Sì, 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 senza dubbio. Poi c'è varietà perché c'è carne, c'è pesce, per cui è conveniente. Prendi un sacchetto, serviti dal distributore, metti la busta sulla bilancia, seleziona il codice giusto e il gioco è fatto. L'ambiente ci guadagna e il portafoglio non piange. Che siano sfusi o alla spina, i prodotti senza imballaggio piacciono a soci e clienti. Due su cinque hanno detto addio alle confezioni. Cereali di produzione toscana, tisane, tè, caffè, ma anche cibo per cani e gatti sono sfusi. I detersivi per piatti, i pavimenti e lavatrici a marchio Cop Vivi Verde sono alla spina. La prima volta è possibile acquistare il contenitore del sapone da riusare poi con il passare dei mesi. Meno imballaggi, meno rifiuti, come dicono i dati del 2013. Noi abbiamo considerato che solamente nel canale dei superstore abbiamo risparmiato dall'inizio dell'anno circa 750 mila confezioni. Questo ovviamente con un vantaggio enorme per l'ambiente. Se avessimo lavorato su base anno, quindi se tutti i negozi avessero avuto lo sfuso dall'inizio dell'anno, avremmo superato il milione di confezioni risparmiate. Anche lo scontrino è più leggero. I prodotti sfusi costano dal 25 al 30% in meno rispetto a quelli confezionati e questo è un incentivo per i consumatori che sono molto attenti alla qualità e chiedono spesso informazioni. Le richieste più comuni sono innanzitutto se contengono conservanti, coloranti e da dove provengono. Io solitamente rispondo che provengono dal Mugello e che non contengono né coloranti né conservanti. Sono molto buoni anche come prezzo, c'è una qualità prezzo e conveniente. Da quando hanno cominciato a mettere questi qui alla coppa, l'ho provato e sinceramente sono anche meglio di quelli già confezionati. I cereali hanno tutti lo stesso prezzo, così è possibile mettere nello stesso sacchetto tipi diversi. Sono 15 superstore di Unicop Firenze dove sono disponibili i prodotti sfusi, ma l'obiettivo è di estendere questo servizio a tutti i 24 grandi punti vendita entro la fine di quest'anno. In vista c'è una novità. Stiamo cercando di portare avanti un'idea, probabilmente già dai prossimi mesi la potremo trovare realizzata in qualche punto vendita, nella quale facciamo degli accordi con dei fornitori locali e nei punti vendita faremo trovare un vino bianco, un vino rosso di zona disponibile come prodotto sfuso. Spesso anche i sacchetti usati per i prodotti sfusi saranno totalmente riciclabili, intanto sempre più clienti scelgono questo nuovo modo di fare la spesa. L'ho preso Coccantini per il gattone di casa, ho cambiato diversi prodotti, poi sul consiglio della ragazza che era qui a fare praticamente la promotrice di questi prodotti mi sono trovata no bene, Benone, lui è bello, attivo, divertente. I cereali per il mio figlio e qualche volta ho usato anche il detersivo, uno spesso, mi rimane un pochino più complicato ricordarmi di portare il vuoto, però l'ho provato, sì.